Francesco di merda Ah non eri nello stream Lo stream non è ancora abbiato No Bene Ma tra poco lo sarà Il piano è molto semplice Facciamo New York New York Dopodichè io vado a dormire Mentre voi fate quello che pensavo Esatto Vediamo se posso joinare dal menu Comunque ora è avviato Ora è avviato Assolutamente Bene Prendiamo questa Così il robot poi vi invita No posso entrare dal menu Credo Credo Vediamo No mi hanno detto Si è unito alla tua Perfetto allora Completa 7 eventi rally raid Eh lo farò Ti cazzo Bello Il modo in cui vuole sta cosa Icona 822 Io però vorrei fare la grande stronzata Invece che boostarmi Invece che boostarmi Il I money Mi boosto i follower Perché voglio arrivare E voglio arrivare alla Hoopone Hoopone Ma sì dai Chi se ne frega A zero sezione Che dupal Ma tipo Ivory Ivory se ci senti Perché non mettere un modo Per mettere Sti cazzo di punti Tutti in una botta Tipo Già di farmi spammare X Cristo Oddio Che tortura Come non sei d'accordo Che è una tortura Spammare X Ho detto Solo yes Esatto Ok Più 27,4% Followers Madonna Potete avviare Quando volete Per quanto mi riguarda Ma non ho ancora Ritirato le rewards Dell'altro Bellotto Bellotto Ho avviato adesso Allora Allora Le ritiro adesso Vediamo C'è un set Se non sbaglio Sì Che non mi sono nemmeno Cagato Mago del Protox Per Aerobatics Capirai Con 500.000 Bucks Rimborsati Oh hellie Oh hellie Il motivo Dei 500.000 No Il motivo Di questo Un set La ragione Le Overture Mi stai facendo una domanda Ma perché I pezzi del coso Sono separati Tra le altre cose I pezzi del rally raid Separati nel senso Che sono un po' Adesso E poi un po' Saranno probabilmente Settimana dopo Perché è quella con cui hai più chilometri L'hanno tolta sta cosa da un po' Mi pare Oh bello il fumo E sono l'unico che ha lasciato la egoista Basic Perché Perché Guaito Ah Allora sei tu che non stai Che non sta andando Perché Solo perché ho cambiato auto Bella Magnifico Magnifico Che bello è che sento Voice che sformate Quindi questo lo senti pure Ma è più di te Vediamo Esatto Chiudi e riapri il gioco Adesso non lo so Aspetta un secondo No Evento annullato Il capo ha abbandonato Che è sta telecamera Il capo ha abbandonato Cosa Cos'è Hai la telecamera bloccata Non ho idea Questo sei tu Aspetta ma io ho la massima velocità Dentro il tunnel dell'evento What Ok questo è strano Rob prova a entrare Non lo so Aspetta prima devo spi Ma stai già partecipando A un evento Cosa What in the god damn fuck Proprio Aspetta puoi spostarti indietro almeno Aspetta ti sposto io indietro Ti sposto io indietro Se proprio non Oh ok Ora si è fixa Giustamente Tra l'altro mi dice che la gara è bronx qui Ma che cazzo Oh belli sti due frame al secondo Comunque puoi entrare Eh Eh si No ok Sto dicendo Puoi entrare dalla ps4 Dal menu Ma dovrei Deve Sarebbe utilizzare Che mi dico di prima Oh si perché effettivamente la crew non è mor- Esatto esatto Esattamente Icona 845 Bene quindi vuol dire che La hoop me la prendo alla fine di sta gara Very nice Hoopone 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 A sto punto visto che mi la prendo alla fine di sta gara Me ne approfitto per reimpostarmi I punti Dio O li lascio così perché onestamente non c'ho un cazzo di sbatti Nel fare spostamenti di qua e di là Semmai metto quelli che ho appena guadagnato Perfetto Più 28,2% Con questa notizia Aspettate un secondo Da un secondo Voilà Esatto No ma io sto facendo arassment su sto tizio qua Io vorrei prendere alcuni in faccia Se non ho progettato sto cazzo di Same Non siamo capiti È tutto fatto con i piedi Eh purtroppo Una madonna poverina di dio Stato usando il cicatrice Tutti i bazzi Quale tipo Si Vedi No no puoi andare Puoi andare Aspetta un secondo Aspetta che mi fermo un attimo So what Ce l'abbiamo fatta Road trip Road trip Secondo me comunque nel summit che devono ancora mostrare Con lì only in one ci sarà New York Ve lo dico io Proprio la butta lì Sai cosa penso che ci sia lì? What? Il gran finale Del Delle cose extreme Quello dove affronti Tutti e quattro i cose Oh Probabile Di campioni No Sul cascatore sotto Eh Sono caduto così forte Che mi ha fatto Sto problema Magnifico Andiamo bene Azzo Azzo Proprio Beh Grazie Grazie per il sole Una Una flashbang Tremendo Proprio Il sole Esatto Ciao Stronzi Ciao Stronzi Ciao Stronsetti Dai Su Aia Cristo Dio Oh ok Una Dice di buttarsi Completamente Al lato Della strada Così come me Ma come Da secondo A ottavo Ma che Ah mi ha fatto responare Sette chilometri Inbietro Ah vabbè Come lo vuoi tu I guess Potevi tagliare Ci sto provando Però ho sbagliato L'approccio Potevi evitare Potevi evitare Proprio di fare Il giro Ah ok Già No ma non la so New York Completamente Non sto manco Guardando la mappa Il bello È quello Bella Sta roccia In mezzo Di coglioni Ce la sta mettendo Tutta Per non farsi Apprezzare Sta Gara Ma perché Mi fai responare Settemila Miliardi Di chilometri Indietro Vorrei capire Che tu Coglioni Ciao Rob Come sei Scusi Ho fatto un piccolo taglio Small Comunque non ti vedo Da questa banda Sì Perché Un tronco Mi ha fatto Ciao Ah ok Però adesso Sono qua Ora devo sfruttare Le due teste Di cazzo Davanti a me Per fare Da catapulta Come una catapulta Dovendo il distacco Qua Che ho io Ho 31 secondi Le mano Bearups Grazie Guardrail Very cool Guardrail Dove è il pezzo Bello di autostrada Dove si Viaggia A 7000 All'ora Non esiste Non esiste Tutta sofferenza Quindi Tutta sofferenza Mega Megafook Ci stavo Nevento da 40 minuti Su Su Tuck1 Perché Glenn È a primo posto Non va bene Non va bene Per me Comunque Da due ore Da due ore Cazzarolle Non era Un po' Da 4 ore Pure da 8 ore Da farti dire Perché esisti Perché dove hai parti La roba Il mano Non hai fatto Non sapevo di poterla fare ma non l'ho mortata Personalmente Ti sei perso solamente l'IA che è 100% illegale. Io e Manu ne avevamo provata una che doveva durare tipo due ore, mi pare, che dice stimato due ore, però poi non so prima. Il fatto sta però che il primo posto, un bot, correva come un dannato. Era illegale. La gara funzionava che o non fai alcun errore oppure la perdita, perché non c'è modo di stabilire. Paglio. Non so come sta il tuo pc. Ho provato a scaricarlo. Io ce l'ho ancora più... Su pc però. Beh. Se dando tutto lo spazio che c'è a disposizione è inutile pensare a dare. Posso contare che Uplay non è cancro come Origins. È cancro ma non come Origins. è piuttosto... Alla lista di robe da fare. Dovrei cercare io la... I punti senza il punto di cru sono intorno ai 140 giga. Oh. Beh. Guarda io la fibra ma come puoi ben vedere è tipo fasulla asfac. che... Ti dirò l'anno dicendo che ho fatto solo quello minimo di gestione della fibra proprio davanti casa. Tecnicamente da quello che bisogna avere alcun tipo pulmine. Puoi pigliare la 100 mega quindi. Una roba assi. Buona. Ma come dicevo qua carpe non c'è un problema. Perché sono stronzi. stronzetti. Stronzetti. Stronzetti veramente. Io sono andato qua a funghi tipo per tagliare. Io sono a 300 KB qui sì. Tanto. Sì. Siamo lì eh. Dico quanto è andato qua. E' stato quello più chiaro. No. Sì. C'è tutta sta regola stupida sul... Può arrivare fino a... Non è che quella è la velocità fissa che hai. C'è una truffa. Sì. Dunque è che non l'ho mai visto arrivare a tanto. Esatto. No. A me dicono che dovrebbe essere 30 mega e 3 in upload. E la verità è che sono a metà effettiva di quella cosa. La velocità. Sempre solo a metà. Mai più o mai meno. Dovresti. Non quello se... Dovresti. Eh perché dice fino a... Non è che l'obbligo contrattuale è quello di fornire il minimo indispensabile. Poi... Non è che d'affanculo dai. Belli sti contrattini del porto. Teste di cazzo. Questo ti avevo quasi raggiunto Gab. E invece no. Un capolavoro sto gioco. Questi sono i magnifici server dubbi. Esatto. Esatto. E' ancora vederlo è un problema del genere su Warframe. Ma siccome su Warframe. E su Warframe direttamente crasha e basta. Warframe non c'è però non ti arriva a bloccare il gioco. Ma io su 400 ore non l'ho mai visto un problema del genere onestamente. Perché tu sei su 400 ore e il 390 sei lost. Creatura ignota. Lol. C'è raggio. C'è raggio. C'è raggio. C'è raggio. Ehm. Qua quando fa il problema di connessione è perché deve portarti avanti la IA per renderlo più... più challenging. Lol. Per esempio non funzionano. La gente si te ne trasporta e tu sei più indietro magicamente perché... Ma è la mia città. Esattamente. Dai, intanto Glenn te ne sta a fare un culo dietro. Ah, dai, forse no. Bello in silenzio. Le ma... Ma... Esatto. Non è magnifico quando fai un taio tutto tranquillo e puoi appare da nulla un fottutissimo cartellone? Cazzo, se è bello. Capacità di rendering incredibile, parca fottana. Rendering level Ubisoft proprio. Anzi, rendering level Assassin's Creed di Unity. Che manco le facce caricava quello. Madonna. La grande porcheria assoluta. Bei tempi, però. Ti ricordi? Tempi in cui... non apparivano i nemici sul destino. Oddio, quando era? Ehm... Diversi parti. Ah. Allora. Ti può fare un pop-up subito dopo? Tipo? No. Una cosa del giro. Stiamo al 30%. Buono. Ah, però tu sei al 30%. Ehm. Ah, sono vicino allora. Ehm. Stiamo vicini, ma e voi. Ok. Buono, buono. La prima mappa grossa vedi il mio puntino. Inderestong. Oh, stavo per centrare il tizio dell'UPS qua. Ah, forse. Il bastardo. Vabbè che le tutte le UPS sono good guys. Si, se era SDA o poste italiane no. Beh, per dirti sono quello che hanno portato la V4, quindi... Ah, eh. Bella impacchettata. Impacchetto che contrasse. Contro il cazzo. Contro il cazzo. A meno che non ho avuto la botta di cuore, che è possibile. Un po' sempre andando tutto male, no? Che cazzo. Esatto. Ah. Ah. Thinking emoji, vabbè. Esatto. 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 Mi hai tolto il bocca. Mi hai tolto il porco di bocca. Ah, quello nessuno lo deve. Questa creatura mitologica, sì. Dio porco le... Vedi? Dio porco, sì. Non so se è l'ottavo nano di Bianca. Eh, il Mau. Grazie, testa di cazzo, Rocale. Un incidente così forte da far... da far dare problemi. No. In questo momento sto vivendo la situazione delle tupi continui di bocca. Esatto. Se non ho andato proprio il punto giusto. Esatto. Esatto. Ma cos'è sta roba in legno che suddenly è cemento? Non puoi distruggerla. Esatto. Ma dai, su. Eh, la... Il meteo su New York è fisso oppure cambia in base... non è... Um... penso che... Cioè, cambia in base a... Te lo dico subito. Essendo un... Se a metà gara parte la neve allora è fisso. No, no, è solo una delle gare che non è riuscito a giocare, ma è sempre dipendente dal metro che c'è sul centro. Non è corretto questo ragionamento perché c'è la... C'è stanno alcune gare che hanno il metro di crisi. Era una cosa sin da vanilla questo. Comunque hanno fatto diverse patch ma ancora la Yaa si bugga e cade di sotto al 38%. Magnifico. C'è Glenn... Oddio! C'è tipo Tania Cagnotto, no, si lanciano nel fiume questi. Bellissimo. Bellissimo. Ho visto volare... Dai, 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 di nuovo, rifatelo. Please, please! Ah, non si è visto nella mia prospettiva. Devo trovare una... Una posizione... Ecco. Ah, sempre io. Sempre colpa di sciare. Yes. Ora, loro sono bloccati, stanno provando a risalire, ma tipo cadono all'indietro. Ok, Travis è riuscito a premere L1 più R1. Glenn continua a scivolare all'indietro. Che cazzo di spettacolo magnifico. Ciao, Travis. Sei tornato al... Dai, cool kids, diciamo. E io, 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 è una meraviglia. Dai, Glenn, ce la vuoi fare a risponare? Dai, su. Vai, Travis! Vai, Travis! Aspetta, forse così posso avere una visuale migliore. Ah, mi impressione sto ciclo notturno sta durando. Sì, decisamente sta durando. Abbiamo finalmente fixato questa stronzata. In before, tra due minuti torna... Ah, guarda, io probabilmente esco dalla galleria che è più bella. Infatti è l'alba, cioè. Bello. Ah, no, no. Forse era la luce dell'effetto. Eh, esatto, l'effetto. Glenn, ah, qui. Glenn, che cosa minchia stai facendo, Glenn? Sta a fa... Sta a fa' giro tondo qui, no? Ah, CTRF. Eccolo, il CTRF. Ma... Chris si è messo a studiare le rare specie di... Porca miseria, ladra. Questa era una specie rara, per esempio. L'altra è il porco. No, vabbè, quello non è raro, perché... Lo invocano tutti. Ah, ho capito che fine fatti. Non hai preso questa... Uscita qui. Glenn, cosa minchia fai, Glenn? Non so, vedo... Ma per me sono scoperto, è un taglio, sì? C'è un taglio? Praticamente se l'autostrada passi da quel fianco... Alla... C'è... Sopra però? Tu dovresti scendere sotto. Tu devi scendere qui sotto. Ci riesci? Con il guardrail più traversato? No, c'era proprio un butto. Un butto. Te lo dico perché fatta i peggiosi che il GPS non ha segnato di andare giù. Beh, lì lo premo R2 per accelerare l'auto, non si muove di un millimetro. Fantastico. Grazie Wayne, very cool. Molto probabile. Molto probabile. È messo offline, quindi non lo so. Io lo strangolo. No, la cosa fantastica, sai qual è? Che era notte, dopo sto problema di connessione, adesso c'è il sole. Bellissimo. La poesia. Glenn, Dio madonna. Vuoi cascare nel lago? No, è responato. È responato qua. K. Ok, la sua IA è morta perché non sta né accelerando né... No, che ora sta accelerando. La puoi fare, vai Glenn. Cancaro, Dio. Bella sta roccia non solida. Cristo. Vorrei buttare sul lago, Glenn. Per favore, dai. Fatte lanciare. Dai, eh. Cane! Comunque il tempo è variabile. Ah. La prima volta che ho fatto il meteo, la corsa, il New York, il gioco ha deciso di graziarmi con un bel 50% di neve. Beh. Ho fatto il 50% di gara con la fottutissima neve, non riuscivo a vedere un caff. Beh. Non mi fanno male il dioppo, lo vedete di questo piano. Beh. Ok. Io riprovo a lanciare giù Glenn. Tanto sono tipo a 3.000 ore di ritardo. Comunque, Whiteout mi ha fatto ricordare qual è il vero rubber band. Oh, sì. Oh, sì. Ah, traverso queste, queste catterelle qua. Ah, questi sono Amateurs. Queste hanno pure le Iada Amateurs. Guardate, le belle. Ah, ti ho mancato, Glenn. Mannaggia a te. Mannaggia a te, Glenn. Mò ti tiro giù. Plasma. Blasmor. Mannaggia, se ti piovesse la meccanica della morte terenna, non c'è un po' di cose. Guarda, 4 IA sarebbero morte per colpa del lago, a quel punto. Staremmo a metà. L'unico in gara sarebbe roba. Ecco. Vittoria netta, proprio. Come la bestemmia che dovrei fare. What? All'està linea così. Grazie. Grazie, Glenn. C'è Glenn che sembra avere tipo il Parkinson, non lo so. mi sta tremando. Il gioco ha deciso che io non ero più capace di girare dopo la riconnessione. Ah. Sono andato fuori di brutto. Quando sono respawnato mi ha fatto respawnare molto indietro e Wayne nel frattempo è diventato Dio. Ma, esatto, esatto. Mi domandavo se la frase avesse una fine. Glenn, madonna di Dio. te devi dar a buttare sulla una madonna. Oh, è lì. No, non è fermo. Prova ad accelerare ma non accederà. Lulli. 61%. 61% trigger, Dio sono, sai? anzi, di più, il doppio, direi. Magnifico. Ah, ok, quindi Glenn si è teletrasportato 30 km avanti. Very cool. Benissimo. C'era qui due secondi fa si è teletrasportato. Vabbè. Quindi Ivory Tower è la tua soluzione e se non ce la fanno falli cittare giustamente. non è buono le faccio cittare io allora. Bastardo. Non è finita. Tu finisci fuoristrada adesso. Ecco, takedown proprio. Lull. Oh, Wayne lo recupero col quasar. Col quasar? No, tanto in dito lo vuole, tanto in dito stare. Sta nevicando. Lull. No, no, no. White Christmas. Oddio, cosa cazzo fa Glenn? Cosa cazzo ha fatto Glenn? Si è lanciato a tutta velocità tipo non è morto? No, non è morto, ok. Cioè, si è bellissimo. No, ma è poesia, c'è. In questo scenario possiamo vedere la Pagani Zonda F lanciarsi a 300 km all'ora verso una montagna di rocce a sperare di ottenere qualche cosa. Oddio, qua vedo le sgommate che ha lasciato colpendo il muro. Ma no, vabbè, Glenn ha qualche brain damage perché è morto un altro mazzinno. È meraviglia sta jacazzarola. Che meraviglia. Avrà tipo il cheat del ghiaccio di CTR attivato. Vabbè che c'è la neve però. Normalmente fa cagare anyway si è ributtato fuori oh Glenn ma tipo la patente ce l'abbiamo legittima o no? Non sa cazzo sta combinando sta lol vabbè dove sta andando roglie sa cazzo sta combinando se mi freddo ce la può fare andando oh ce l'ha fatta lol tanto la prossima curva che prende a 500 all'ora deve andare di una schienta me sbaglio? non me sbaglio eccolo qui l'ho centrato in piedi oh ecco respawnato attenzione reported for harassment proprio credo che hai fatto la sensibilità alla mano vostra eh eh dio buono di dio glen ti devi dare vada al cazzo ti faccio una manovra pit che vedi eh glen esatto dio porco mi ha mi ha fatto il take down lui adesso ed è morto di nuovo non ce la fa non ce la può fare ha colpito il centro della galleria mi sa ed è respawnato esatto è stato respawnato ancora più indietro quindi di è respawnato sette chilometri indietro è respawnato fuori dalla pista magnifico vabbè a fargli una visitina oh dio perché la luce è scesa drasticamente molto probabile molto probabile non riesco a capire cosa intendi per qua considerando di stare un minuto e trenta seconda avanti al 80% io sto al 75% sempre più in alto amici miei cristo sono uscito dalla galleria non vedo più un cazzo adesso più 12 minuti yes 47% sto ancora osservando glenn che sta riverniciando l'auto sul muro praticamente cosa cazzo vuole fare sta chia stava camminando col freno a mano tenuto e ora ha fatto un'altra testa coda questo sarà il settimo testa coda che gli vede a fare oh ok hai capito che si può respawnare bravo glenn ai comandi di ctr mi sa mi sa oh qua c'è una curva a 90 vediamo se finisce fuori vai vai non mi deludere ti prego non mi deludere non mi ha deludito delio però ha colpito il tra oh madonna queste auto sono carri armati comunque illegale vabbè questo la roba sarebbe stato l'unico ancora vivo forse non lo so adesso sarebbe messo a fagguitamenti a random però lui avrebbe fatto la fine di caccia cosa sarebbe messo a fagguitamenti a random spesso questa cosa è tutta la fine di caccia anche da la fine di caccia non mi ha av strummato Grazie.